Oggi parliamo di cyber risk in Manager Italia Lombardia. Cos'è esattamente e come possiamo difenderci? I rischi in questo momento che erano visti come qualcosa legato alle stagioni, agli incidenti, a problemi di altro tipo, oggi riguardano molto di più la connettività su internet, l'uso dei telefoni cellulari, le connessioni alle reti wifi, l'uso dei device aziendali, il portare il proprio computer in azienda, il proprio telefono in azienda o l'utilizzare risorse condivise, quindi la posta elettronica personale magari sullo stesso oggetto che poi usiamo in azienda o viceversa. I rischi in questo momento sono di tantissimi generi e continuano a crescere, si modificano. La prima nozione importante in assoluto è diffidare un pochino di più. Io un esempio che faccio spesso è i ragazzini una volta li mandavi in piazzetta controllando chi c'era in piazzetta, oggi li lascia chattare senza sapere chi c'è dall'altra parte del monitor. E quindi avere un pochino più di attenzione a cosa succede su quell'oggetto, conoscerlo un pochino di più, essere un po' meno tranquilli purtroppo in realtà è la prima nozione in assoluto. Preoccuparsi di quello che sono le informazioni che si ricevono, come si ricevono, fare più attenzione all'uso di chiavette USB, fare più attenzione alle reti wifi a cui ci si collega, fare più attenzione alle mail su cui si va a cliccare, perché in questo momento i vettori più utilizzati per infezioni di virus e ransomware sono sempre legate, anzi all'84% in questo momento sono legate a email di phishing, cliccate dagli utenti che non pensano che ci possa essere dietro qualcosa. Quindi azioni perpetrate da comunque attaccanti che a tutti gli effetti sono dei criminali e oggi ormai definiti cyber criminali che hanno lo scopo di fare soldi. Quindi loro investono, loro spendono per studiare nuovi sistemi di attacco perché ogni identità, ogni record, ogni informazione sanitaria, ogni informazione assicurativa, ogni dato di azienda per loro ha un valore economico decisamente alto. Quindi magari affidarsi dei consulenti, obbligatoriamente la formazione sia aziendale che personale, casalinga, per fortuna anche la televisione ormai se ne parla sempre di più, sono uscite le nuove leggi, c'è un nuovo decreto legge importante su questo, è uscito il GDPR, quindi tutti quanti incominciano finalmente a parlare di cyber security come soluzione a tante difficoltà poi delle aziende, rallentamenti, perdita di produttività, blocco degli operai o comunque dei dipendenti che sono in giro, tutte attività che si possono fare facendo un po' più di attenzione sicuramente. Grazie a tutti.